esiste una persona che viaggia in tutto il mondo e che fa visita ad ogni bambino ovunque sia chi è sì sì esatto è babbo natale si assicura che i bambini di tutto il mondo ricevano i regali dei loro sogni è piuttosto stretto qui dentro ero convinto che i cammini fossero più larghi jasmine ciao sono così felice di vederti come puoi vedere cerco di intrupolarmi nei cammini per consegnare i regali di natale aspetta un attimo fammi controllare quale regalo dovrei consegnarti quest'anno vediamo o c'è una tua foto che bello ma non vedo il tuo regalo da nessuna parte non penso che i miei elfi se ne siano dimenticati non è da loro non preoccuparti lo scopriremo torniamo alla fabbrica dei regali aspetta un secondo perché sento puzza di bruciato oh 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 miei cari elfi babbo natale è tornato babbo natale è tornato coi regali chi avrà chiesto cannocchiali bracciali la 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 ce n'è per tutti jasmine presto scoprirai cosa riceverai per natale quest'anno nella mia casa c'è una stanza magica segreta dove si trovano tutte le risposte andiamo questa è la mia libreria magica su questi scaffali c'è un libro su ogni bambino oh penso che questo sia il tuo libro sta cercando di mostrarci qualcosa vediamo di cosa si tratta è lì che vivi vero ma che cos'altro abbiamo qui jasmine so che sei una bellissima bambina ho sentito che ami mangiare i dolci oh che bello è adorabile va bene va bene andiamo tutto questo camminare mi ha fatto venire voglia di uno spuntino di un pisolino presto scopriremo il tuo regalo oh oh e voi che ci fate qui batuffolo paco le mie piccole stelle ci vediamo a cena ciao jasmine c'è un ingresso segreto alla fabbrica dei regali da qualche parte qui solo elfo guardiano può farci entrare speriamo sia di buon umore elfo guardiano posso entrare si 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 riferisco dice che la parola d'ordine è la tua età jasmine ricordami quanti anni hai oh certo hai già cinque anni ce l'abbiamo fatta la parola d'ordine ha funzionato ma andiamo andiamo oh jasmine questa è la nostra fabbrica dei regali è qui che vengono realizzati i regali per tutti i bambini del mondo guarda con attenzione questa è la nostra magica macchina che crea i regali vediamo dove il tuo regalo elfo supervisore guarda questa foto abbiamo il suo regalo soltanto un secondo vediamo niente nessun problema sono sicuro che cercando bene davvero ma tutto bene allora l'abbiamo trovato fantastico il regalo ora dobbiamo solo assicurarci che tu sia sulla lista dei bambini buoni andiamo in ufficio mi puoi aiutare bisogna battere le mani e ripetere ad alta voce oh 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 per la neve si va di sicuro si arriverà per la neve si va di sicuro si arriverà oh ce l'abbiamo fatto non c'è posto migliore che essere vicino al cammino bene forse dovremmo riposarci un po' si si dopo tutto dobbiamo prenderci cura di questa grande pancia molto indaffarata oh e questi sono i miei piccoli aiutanti ci divertiamo molto insieme che birbantelli avete mangiato tutta la torta di mele che non vedevo l'ora di mangiare si si sto parlando con voi stanno fingendo di non sentirmi come al solito oh ciao eric mi aiutaresti con il libro? jasmine penso che sia meraviglioso che tu ami così tanto i tuoi genitori so anche che balli benissimo a quanto pare a volte non vuoi dormire nel tuo letto è vero? farai uno sforzo? lo prometti? ho anche una raccomandazione speciale per te non lasciare i giocattoli in disordine vorrei mostrarti le foto di persone molto speciali e importanti che ti vogliono molto bene ti amano con tutto il loro cuore chi pensi che siano? conosci queste persone? ah ti amano così tanto? oh non è meraviglioso? dopo aver visto questo video ricordati di dare loro un grande abbraccio e ora la parte più importante chiediamo ai miei elfi che ti hanno osservato per tutto l'anno se sei sulla lista dei bambini buoni cari elfi qual è la vostra decisione? allora cosa ne pensate? lista dei bambini buoni o no? avete deciso? si? allora evviva! ben fatto ascolta attentamente alcuni elfi sono un po' preoccupati per te ti sei comportato abbastanza bene ma devi impegnarti di più e ascoltare gli adulti sono sicuro che puoi farcela ho sempre creduto in te va bene ora vado ci vediamo presto buon natale ciao ciao ho 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 Grazie a tutti.